Vediamo la sezione del filamento che è composta da diametro e poi dal flusso. Il filamento che voi utilizzate è sicuramente l'1.75, infatti di base in realtà quando si apre questo slicer qua c'è 2.85, una volta si stampava anche con il 3 mm, adesso non lo sento più quindi probabilmente si è standardizzato a 1.75. Se voi prendete un calibro, misurate il vostro filamento, misurerà 1.75 mm. Se comprate filo da dei fornitori che non conoscete o magari che provengono dalla Cina o che costano pochissimo probabilmente il diametro sarà variabile. Sarà variabile nel senso che potrebbe essere che in alcuni punti il filo sia più magro e se è più magro causa difficoltà di estrusione, nel senso che sembra che faccia fatica a uscire. Invece c'è solo poco filo e quindi la macchina espelle di meno. Per esempio io sto stampando questo oggetto a 0.5 di ugello, quindi vi potrebbe sorgere una domanda un po' spontanea che è ma se io lavoro con ugelli più grossi devo cambiare il diametro del filamento o devo variare il flusso? No, nel senso che una volta che tu dici questo è un filo da 1.75 e il flusso è al 100% lui sa che il motorino gira tanto. Se voi gli dite che è 0.4 girerà un po' meno, 0.5 un po' di più e via via. Questo parametro qua modifica anche questi valori qua. Qua è espresso in percentuale e qua è espresso in millimetri. Mi è capitato alcune volte che il filo sia più grosso e questo mi causava difficoltà sempre di estrusione, nel senso che si bloccava l'estrusore e il filo rimaneva lì e il filo era tutto mangiato. Quindi ho scoperto che il filo non era da 1.75 ma magari era 1.90 barra 2. Bisogna farsi cambiare la bobina. Il flusso, per esempio, questo oggetto che sto stampando è un oggetto un po' sottile e sto lavorando al 100%. Da cosa dipende la variazione del flusso? Dal riempimento che vuoi avere dell'oggetto, ovvero dalla solidità. Cioè, se lo vuoi solido devi sacrificare un po' l'estetica ed aumentare il flusso. Io per me aumentare è 100 o 105. Se invece vuoi un'estetica migliore, vuol dire che questo è un pezzo solo da esposizione, ma non viene usato, non viene montato su un'automobile, il flusso può essere ridotto perché più è ridotto il flusso, visto che se scendete a 90 di flusso, le stampe escono esteticamente meglio. Questi sono corsi in cui parlo e non faccio vedere molto, però è importante che capiate questi concetti perché, per esempio, se io avessi tenuto sempre questo valore standard, ho scoperto che il mio valore di flusso è 95 o 90, io tengo impostato 90. Poi devo fare una stampa che un cliente mi chiede che deve reggere una presa d'aria e va usata e quindi magari io continuo a tenere 90, ma magari faccio una stupidata. Dovrei aumentarla a 105% o a 100%. Quindi il flusso è variabile a seconda di cosa? A seconda del filo che usate, a seconda del tipo di oggetto che state stampando e a seconda anche del materiale che state estrudendo. Per esempio, questo oggetto, che ci sono dei rilievi, è una medaglia, ho impiegato invece un flusso più basso perché non mi interessa molto che sia meccanicamente funzionale, ma mi interessa che le scritte siano belle. Il flusso è un valore che tanti sottovalutano, provate a modificarlo in un range da 85 fino a 110. Il diametro del filo lasciatelo sempre quello, non azzardatevi a comprare bovine da 3 mm e lo spessore dell'ugello è relativo all'ugello che montate. Farò un corso a parte sul tipo di ugello e su quando usarlo e non usarlo. Se questo video ti è stato utile, condividilo a qualcuno che sta per comprare una stampante. Alla prossima! Alla prossima!